Eccomi qui, eccomi qui così all'improvviso perché qualcuno sta giocando forse forse in maniera poco corretta Cioè io ero leggermente AFK perché ho avuto un piccolo problema personale e mi sono ritrovata quasi atterrata perché all'improvviso hanno attaccato fuori dal campamento Quindi vabbè, male per te che stai AFK, insomma, relativo Eccomi Ecco ti, ecco ti Valuteremo il tutto dopo, ora intanto sono qua Dobbiamo mangiare perché c'è pure questo problema del cibo che praticamente Ups, guardate che cazzo è successo Ah sì, con tutta la maschera, beh, sti cazzi Sono pure senza acqua, tra parentesi Quindi veramente una merda Non ho parole Non ho parole quelle che stanno combinando questi qua In realtà non doveva andare in live adesso, in questo momento Doveva andare in live un pochino più tardi Ma a quanto pare Non è possibile Ha contestato e non si poteva fare Quindi i tendini non sono tagliati Quindi cazzo me ne fotte Non lo so, mi ha fatto chiamare in caffetteria per comunicare questo E' qualcosa che avevo da far comprendere prima Che nonostante mi hanno abbastato, stavo saltellando Ok, ora mi fai sapere lui come sono arrivati lì Sì, infatti io l'ho chiesto in caffetteria No, 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 dovete fare un attimo di silenzio In caffetteria ne stiamo parlando qua Io voglio che mi chiamano di là Oh, com'è l'ho 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.